L'attualità di Federico II di Svevia, anche in cucina, appuntamento al Teatro Comunale Eschilo nell'ambito dell'iniziativa promossa dall'Accademia Italiana della Cucina. Il convegno è stato patologinato dall'amministrazione comunale e ha visto la partecipazione di numerosi delegati oltre ad alcuni alunni dell'Istituto Alberghiero Luigi Sturzo, diretto da Grazio Di Bartolo. Federico II, oltre ad essere un grande imperatore, lo stupor mundi detto, e che amava attorniarsi di glitterati, filosofi, artisti, amava molto la cucina, amava mangiare, però nello stesso tempo, anche se amava mangiare, era molto parsimonioso, perché sapeva contenersi e limitarsi. Era un grande cacciatore, amava la cacciagione. Relatori d'eccezione sono stati l'archeologa medievalista Salvina Fiorilla, che ha offerto al pubblico una preziosa ricognizione sulla storia medievale di Gela fondata da Federico II, il presidente del centro studi Federico II di Svevia di Enna Paola Rubino, che ha affrontato il tema culinario Il Banchetto alla Corte di Federico II di Svevia, luogo di confluenza di culture diverse di incontro-scambio, e Roberto Ariani, segretario generale dell'Accademia Italiana della Cucina. L'Accademia della Cucina è sempre lieta di poter sostenere i propri delegati, e per quello sono venuto da Firenze, proprio per portare la testimonianza della vicinanza dell'Accademia Italiana della Cucina alla delegazione di Gela, a tutte le delegazioni della Sicilia, che oggi sono ben rappresentate da molti delegati e da due coordinatori. Questo è un territorio particolarmente evocato, perché il primo trattato lo fece 400 anni prima di Cristo, Archessa Toda la Gela, che ha dato il primo segnale di interesse particolare per questa alimentazione, che oggi ha avuto uno sviluppo straordinario, grazie anche all'attività dell'Accademia Italiana della Cucina, che è l'unica istituzione culturale riconosciuta dello Stato italiano sull'argomento, e che sta cercando con notevole spirito di sacrificio di questi volontari, perché noi siamo tutti volontari, di produrre una conoscenza sempre più ampia in Italia e nel mondo. I lavori coordinati dalla giornalista Rosa Battaglia si sono conclusi con la recita di un monologo tratto da Il Viaggio di Costanza, scritto e interpretato brillantemente dall'attrice ennese Elisa Di Dio.